Il Comune di Trento ha deciso di istituire un nucleo dedicato ai commercianti in maniera particolare del nostro centro storico. Nei mesi scorsi abbiamo avuto degli incontri, certo stiamo parlando di Trento, di una città vivibile che però conosce dei problemi. Allora abbiamo pensato che un'alleanza forte tra chi fa commercio, chi è sul fronte strada, la nostra polizia locale, con un nucleo dedicato, con una sede in centro storico, in Torrevanga, con delle persone che proprio a contatto con i commercianti possono intervenire per prevenire i reati tipo predatorio, per agire dove questi avvengano, è fondamentale. Un punto di innovazione tante volte il commerciante non fa denuncia perché perde troppo tempo a farla e noi arriveremo direttamente nella bottega e nel negozio per la denuncia.